Il mister sta facendo il massimo che in questo momento possiamo fare, sta operando in maniera egregia, la prova di oggi ne è testimonianza perché abbiamo sofferto, abbiamo lottato, qualsiasi altra squadra che viene da una settimana travagliata, molto ma molto travagliata perché le digerie, le voci continue sul cambio di panchina, sui problemi di questa squadra avrebbero potuto abbattere chiunque, invece questa squadra nonostante sia andata sotto, nonostante abbiamo trovato un avversario che se l'è giocata qui alla grande, hanno saputo reagire, hanno sfoderato credo una prestazione dignitosissima e credo che questa è la strada maestra su cui operare. Io penso che se voi avete idea che il Gela debba vincere tutte le partite senza pensare che ci siano gli avversari, io credo che siamo fuori strada, per avere un progetto, un progetto che abbia un futuro importante, che non lo so quanto importante può essere perché io credo fermamente in questa squadra, sono convinto che sempre tutte le componenti debbano remare dalla stessa parte, e sia società, tifosi e stampa. Quando indossi la maglia del Gela hai sempre una responsabilità, o maggiore o minore, sei sempre responsabile di quello che porti addosso, quindi sì, mi sento al centro dell'attenzione per il secondo anno, dobbiamo solamente continuare a fare bene. Gela non è una piazza con tutto il rispetto come nelle altre, Gela è una piazza importante dove merita il rispetto e bisogna solamente sudare la maglia, quindi la responsabilità qua ce l'abbiamo tutti. A me piacerebbe vincere a Gela, mi piacerebbe tantissimo come l'ho fatto da giocatore, però per vincere ci vogliono anche condizioni per vincere, io sicuramente ho sempre detto che questa è una buonissima squadra, è una buonissima squadra che deve entrare e migliorare la posizione di classifica e lo ripeto ancora una volta dell'anno scorso, poi vedremo dove siamo, dove in posizione siamo, consideriamo anche che io in questo momento, non per sveditare quelli che stanno giocando, io ho dei giocatori che, mo' infortunato, Galloni infortunato, Bonafini che non ce l'ho, Cosenza che mi ha giocato al 50% delle sue possibilità per una frattura all'acosto, noi non consideriamo tutte queste cose e io vengo perso per pazzo, per un allenatore che non sono vincente, io sono abbastanza realista e coerente, è molto pragmatico, no non c'è stata la richiesta, io ho detto alla società fatemi recuperare i giocatori che ho fuori e noi valutiamo poi il lavoro con tutti i giocatori che abbiamo a disposizione, solo questo ho detto, poi si vedrà, io ripeto ancora una volta, voglio essere chiaro, io ho una buonissima squadra, io ho una buona squadra perché non ne vedo fenomeni in giro, domenica abbiamo perso a Dercolano e abbiamo perso malamente che non meritavamo di perdere perché sul 2-1 abbiamo avuto 3-4 occasioni di arretti per pareggiare la partita e poi il terzo quello l'ho preso al 92 e si è scatenato l'inferno.